Parliamo di Instagram perché è in questo periodo, diciamo, nell'ultimo anno il social che è cresciuto in maniera maggiore rispetto a tutti gli altri, sia come numero di utenti, sia come numero di interazioni e quindi engagement. Instagram è un social molto più semplice, diciamo, rispetto agli altri perché l'attività che puoi fare, la condivisione di contenuti foto e video. I video possono essere più lunghi di 15 secondi perché quando uscì la prima versione in cui si potevano pubblicare video c'era il limite di 15 secondi, adesso non c'è più questo limite. La regola base è utilizzare, come siano tutti, gli hashtag. Per esperienza personale, poi da uno studio che ho trovato in internet, risulta che mettere dall'undicesimo hashtag in poi aumenta l'engagement, la visibilità e la verità del tuo post almeno del 70% rispetto a inserirne da 1 a 10. Ne potete inserire al massimo 30. Se ne inserite più di 30, non è che quelli che inserite in più vengono tolti ma viene proprio cancellato tutto il contenuto testuale del post. Quindi il post viene pubblicato senza contenuto testuale e questo di base è un errore perché fondamentalmente il vostro contenuto viene visto solo dai vostri follower. Dall'altra parte, perché dicevo che Instagram sta crescendo tantissimo e dovrebbe essere alla base della maggior parte dell'attività social o comunque della pianificazione social di un'azienda, perché sta crescendo molto, ha un bacino di utenza al 70% sotto i 34 anni, quindi sono quegli utenti molto attivi sul canale web e quindi sui social. C'è una qualità molto alta dei contenuti, tendenzialmente si ghettizzano o comunque non hanno engagement i contenuti di bassa qualità. Dall'altra parte l'unico limite, se vogliamo trovare un limite, ma che io in realtà ritengo che sia un plus, è il fatto che l'unico link attivo all'interno di Instagram è nella scheda del profilo, che il profilo non c'è un profilo utente, è un profilo azienda, è la stessa identica cosa. Uscirà nei prossimi mesi un profilo business, ma al momento sono tutti uguali. Avere un unico link all'interno della scheda vuol dire che l'unico punto in cui puoi uscire da Instagram è all'interno del profilo. Per il resto su Instagram vale molto la regola dello storytelling, cioè tu puoi creare una storia, soprattutto i brand creano una storia con video e foto, quindi il mio consiglio è quello di creare un profilo Instagram di qualità, meglio una foto di qualità piuttosto che 5 di bassa qualità come invece può essere su Facebook. Ciao e grazie!